Giancarlo Sfolcini, dal vostro punto di vista privilegiato, che cosa vedete? I vostri clienti stanno applicando in maniera diciamo così propria la trasformazione digitale? I nostri clienti sono in una situazione molto complessa perché sono in una situazione economica non facile, hanno obiettivi di breve termine molto stringenti, mentre l'innovazione digitale prevede la possibilità di fare investimenti importanti e su un medio periodo e questo li frena parecchio, nonostante non stanno completamente perdendo l'occasione, stanno cercando di fare tanto con poco, caricando molto anche le proprie risorse e dando gli obiettivi sfidanti anche in questo senso, per cui devo dire non sono sicuramente all'altezza dei grandi player internazionali ma stanno facendo tutti gli sforzi possibili per non perdere le opportunità che l'innovazione digitale gli offre. Questo è lo stato dell'arte, secondo lei che cosa dovrebbero fare? Quali sono le priorità adesso, da adesso in poi? La priorità secondo noi, secondo me, è che debbano concentrarsi tantissimo sull'efficienza interna. L'innovazione digitale consente di fare grandi miglioramenti del processo, grandi miglioramenti nell'organizzazione a costi tutto sommato affrontabili anche dalle nostre aziende, quindi questa credo sia la loro prima azione da fare. Quindi innovare i processi, c'è qualcos'altro di cui dovrebbero tenere conto da subito? Rischiare, dovrebbero, secondo noi, avere un po' più di coraggio, avere un po' più di voglia di tentare, un po' più di voglia di sperimentare, anche accettando il fatto di dover ritornare sui propri passi e rivedere certe decisioni. È un territorio inesplorato per molti, per tutti, e sui territori esplorati spesso si può sbagliare strada. Quindi dovrebbe arrivare anche in Italia l'etica del fail and try again. Fail and try again. Purtroppo l'etica del fail in Italia non è molto frequentata. Fallire vuol dire avere sbagliato, vuol dire essere incapaci, vuol dire essere dei perdenti. Non è la strada che porta sulla strada dell'innovazione. Grazie. Grazie a voi.